Quasi 200 sfollati, i fiumi Basento, Agri e Sinni sono usciti dagli argini, crolli e frane, sottopassi, campi, case e negozi allagati. Più di 24 ore di pioggia e la Basilicata è stremata. Il metapontino è ancora una volta sott'acqua, disagi anche alla viabilità della regione. Interrotte strade statali e provinciali dalla Val d'Agri alla Basentana fino alla statale 106 Ionica, dove sono stati chiusi i sottopassi all'altezza di Scanzano Ionico. Da quando hanno fatto i lavori, li hanno fatti sbagliati? Che lavori? Il lavoro dell'anas e della rampa, tutto sbagliato, tutto sbagliato, perché la pendenza da lì viene qua. Se non supera l'acqua, la pendenza, il livello, purtroppo è contro il livello. C'è lo scambirato e tutto bagnato. Qua l'acqua è arrivata al centro magazzino, c'è del materiale a terra. A metaponto l'acqua ha invaso le vie del borgo, diventate veri e propri fiumi. Sui social network si fa rete per diffondere richieste di soccorso. Decisa la chiusura delle scuole in una quindicina di comuni del Materano. E intanto, commercianti, agricoltori e cittadini devono fare i conti con la furia della natura e l'incuria dell'uomo a meno di due mesi dall'alluvione che tra Puglia e Basilicata è costata la vita a quattro persone. Il mio danno stimato l'ultima volta era oltre i 150 mila euro, adesso si aggiungerà anche questo. Vorrei tanto che venissero a spazzare acqua e fango i veri responsabili di questa situazione, questo vorrei. Qui e in tutto il paese. La terza volta che accade in due mesi, tra l'altro sopra abbiamo l'allevamento di suini e non so più proprio come fare perché è impossibile lavorare, cerchi di lavorare però puliamo, puliamo ma siamo sempre punti da capo.